Alberto Sordi, ladro lui, ladra lei, 1958, è la mitica scena della lana mortaccina. Mortaccina. Ce l'hai, io la vederei. Ecco, questo si chiama De Giunessi Urlerbe, in italiano merenda sul tratto. Ma che domande ne fai? Questa è lana mortaccina. È lana mortaccina, ma che voglia? Se posso, mi ha perduto in palestra. Eh, che vera. Ma come erano bravi, ma perché non se ne trovano più? Ma hai sentito che scoppio di risata, due risate meravigliose, Alberto Sordi e Marisa. Grazie a tutti.